Allora, una partita che poteva essere difficile da preparare, invece insomma siamo stati bravi a portarla fino in fondo con concentrazione. Sì, infatti abbiamo iniziato molto bene, comunque siamo rimaste sempre unite, siamo riuscite comunque a non lasciarci andare, anche se l'avversario poteva sembrare facile, ma in realtà non lo era per niente, quindi continuiamo così e andava bene l'atteggiamento che abbiamo avuto. Grazie a questa vittoria, siamo in semifinale, adesso insomma si guarda avanti, anche se domani c'è un'altra partita importante contro la Germania. Sì, infatti ancora non pensiamo alla semifinale, pensiamo solamente a giocare bene questa partita e niente, cerchiamo di dare il massimo e di andare avanti.